Apprezzate la fatica, se potete, nella vostra vita, non abbiate paura di faticare, perché il valore delle cose è determinato dalla fatica che si impiega nel poterle ottenere o nel poterle realizzare. Se otteniamo delle cose senza fare nessuna fatica, queste cose non hanno nessun valore, non servono a niente, non ce ne rendiamo nemmeno conto. È l'immensa fatica che facciamo per poterle ottenere e che gli dà valore. Questo vale non solo per le cose, non solo per i traguardi, ma anche per gli affetti, per le sensazioni, per i sentimenti. La fatica è un piacere se diventa amica ed è un terribile mostro se non è una nostra amica. E certe volte ci illudono che le cose ci possono appartenere senza fare alcuna fatica, quasi che ci aspettassero di diritto. E probabilmente riusciamo anche a ottenerle con grande facilità, ma poi ce le abbiamo lì e poi ne vogliamo solamente altre, perché tanto non costa nessuna fatica ottenerle e quindi non hanno nessun valore. E se le cose che abbiamo e gli affetti che abbiamo non hanno valore, se le cose che ci stanno attorno perdono di valore, guardate che poi potreste avere grossi problemi. Perché quando le persone hanno cose o sentono cose che non hanno valore, finiscono per non rispettare. Noi rispettiamo ciò che ha valore, se le cose non hanno valore non le rispettiamo come non rispettiamo le persone. Se per noi non hanno un valore importante, in quanto è stato anche faticoso poterle accettare, poterle tollerare e poter vivere insieme a loro.